Ti sei mai chiesto come potresti trasformare la tua vita in solo una settimana? Lo stoicismo, una filosofia millenaria, ci insegna che piccoli cambiamenti nella nostra mentalità e nelle nostre azioni quotidiane possono avere un impatto enorme sul nostro benessere e sul modo in cui affrontiamo le sfide. In questo video scoprirai una serie di potenti principi stoici che, se applicati con intenzione e costanza, ti renderanno irriconoscibile in soli sette giorni. Dall'imparare a mantenere la calma nel mezzo del caos, al valorizzare il presente e praticare la gratitudine, questi passaggi ti guideranno verso una versione più forte, serena e resiliente di te stesso. Sei pronto per il cambiamento? Iniziamo! Ma prima, ti avverto, questo viaggio non è per i deboli di cuore, solo per chi è disposto a fare un vero cambiamento. Prima di continuare, ti chiedo gentilmente di mettere un like e condividere questo video in modo che possa raggiungere più persone. E se non vuoi perderti nessuno dei miei futuri video, iscriviti e attiva la campanella. Lezione 1. Controlla le tue emozioni Per gli stoici, la vera forza non risiede nell'evitare le emozioni, ma nel controllarle. Capivano che emozioni intense come la rabbia, la paura o la tristezza sono una parte naturale della vita, ma non devono dominarci. Immagina per un attimo quanto diversa sarebbe la tua vita se, invece di reagire impulsivamente a una situazione, potessi prenderti un secondo, respirare profondamente e rispondere in modo razionale. Questa pausa tra lo stimolo e la risposta è il vero potere. Durante questa settimana, ti invito a fare proprio questo. Ogni volta che sorge una forte emozione, non agire immediatamente. Osservala, sentila, ma non lasciare che ti trascini. Chiediti, questa reazione mi giova a lungo termine? La chiave è ricordare che tu decidi come rispondere. Controllare le emozioni non significa reprimerle, ma canalizzarle in modo costruttivo. È in questa scelta consapevole che risiede la vera libertà. Quando riuscirai in questo, non solo eviterai di pentirti di decisioni impulsive, ma guadagnerai una mente più chiara, che ti permetterà di pensare strategicamente e agire con saggezza. Così vedrai che le sfide che prima sembravano montagne insormontabili si trasformeranno in semplici gradini verso il successo. Prendi il controllo. Inizia ora. Lezione 2 Accetta ciò che non puoi controllare. Una delle maggiori fonti di sofferenza è il tentativo inutile di controllare ciò che è fuori dalla nostra portata. Gli stoici capivano questo profondamente e insegnavano che gran parte della nostra angoscia deriva dal desiderio che le cose siano diverse da come sono. Il tempo, le opinioni degli altri, gli imprevisti della vita, nessuno di questi elementi è sotto il nostro controllo e lottare contro di essi genera solo frustrazione e stanchezza. Durante questa settimana ti invito a praticare uno degli insegnamenti più potenti dello stoicismo. L'accettazione. Non si tratta di arrendersi o essere passivi, ma di riconoscere dove finisce il tuo potere e dove inizia ciò che è inevitabile. Fai l'esercizio di chiederti ogni volta che ti senti sopraffatto, posso controllare questo? Se la risposta è no, lascialo andare. Lasciando andare non solo ti liberi dall'ansia, ma liberi spazio nella tua mente per concentrarti su ciò che puoi davvero cambiare, il tuo atteggiamento, le tue decisioni e le tue azioni. Accettare l'incontrollabile non è segno di debolezza, ma di saggezza. È scegliere di concentrare la tua energia dove può avere davvero un impatto. Smettendo di resistere all'inevitabile, sperimenterai una leggerezza e una chiarezza mentale che ti permetteranno di affrontare la vita con più pace e resilienza. Il vero potere sta nel lasciare andare ciò che non puoi controllare. Lezione 3. La disciplina è la tua migliore alleata. Per gli stoici, la disciplina era la spina dorsale di una vita virtuosa e piena. Senza disciplina, i desideri e le emozioni ci controllano, portandoci a decisioni impulsive e a una vita senza scopo. La vera forza non risiede nel talento o nelle opportunità, ma nella capacità di fare ciò che deve essere fatto, anche quando non ne hai voglia. La disciplina è il ponte tra i tuoi obiettivi e i risultati. È ciò che ti permette di avanzare passo dopo passo verso i tuoi obiettivi, senza arrenderti quando le cose si fanno difficili. Questa settimana identifica un'area della tua vita in cui sai che potresti essere più disciplinato. Può essere la tua salute, le tue finanze, il tuo lavoro o anche il tuo sviluppo personale. Poi impegnati a fare piccole azioni quotidiane, indipendentemente da come ti senti in quel momento. L'obiettivo non è fare grandi cambiamenti in una volta sola, ma costruire abitudini solide che col tempo diventeranno parte della tua routine. Gli stoici sapevano che la disciplina non è una capacità innata, ma una scelta quotidiana. Praticandola costantemente, ti renderai conto che ciò che prima sembrava impossibile inizia a essere alla tua portata. Sarai in grado di superare gli ostacoli, mantenere il focus e avanzare verso i tuoi obiettivi con determinazione. Ricorda, il successo non è una questione di un giorno, ma di ciò che fai ripetutamente. La disciplina è la strada per la tua grandezza. Lezione 4. Trova la pace nella semplicità. In un mondo che ci bombarda con messaggi di di più e meglio, gli stoici trovarono il vero potere nella semplicità. Capirono che l'accumulo di cose, successi o riconoscimenti esterni non porta pace, ma ansia. Più desideri, più dipendi da fattori esterni per sentirti completo, e questo crea una mente dispersa e agitata. La vera pace si trova nell'essenziale, in ciò di cui hai bisogno per vivere, non in ciò che ti hanno fatto credere di dover avere. Questa settimana, concentrati sul semplificare la tua vita. Fai un inventario di tutto ciò che riempie la tua mente di rumore e ti allontana da ciò che conta davvero. Stai dedicando troppo tempo ai social media, agli acquisti impulsivi o alla ricerca della validazione degli altri. Elimina queste distrazioni inutili, liberati dagli eccessi e guarda come la tua mente si libera. Facendo spazio, potrai concentrarti su ciò che ha un impatto reale nella tua vita, le tue relazioni, la tua salute, il tuo sviluppo personale. Gli stoici sapevano che meno è più. Semplificando, non solo elimini lo stress e la pressione di inseguire il superfluo, ma scopri anche una chiarezza mentale che ti permette di vivere con scopo e tranquillità. La semplicità è il cammino verso una vita più piena, in cui ogni azione e decisione riflette ciò che veramente apprezzi. Fai della semplicità la tua nuova norma e trova in essa la pace che hai sempre cercato. Lezione 5 Persevera indipendentemente dalle circostanze La vera forza non si misura dalla capacità di evitare i problemi, ma da come li affronti. Gli stoici comprendevano che le sfide sono inevitabili nella vita e, invece di fuggire da esse, le consideravano opportunità di crescita. Ogni ostacolo che affronti ti offre la possibilità di imparare, migliorare e diventare più resiliente. La chiave sta in come decidi di reagire alle difficoltà. Ti lasci sconfiggere o resti saldo. Durante questa settimana, quando affronti una sfida, grande o piccola, invece di lamentarti o sentirti sconfitto, fermati e rifletti. Cosa posso imparare da questo? L'avversità ti offre lezioni che, se prese sul serio, ti renderanno più forte. Gli stoici credevano che ogni situazione, anche la più difficile, abbia uno scopo e possa insegnarti qualcosa su te stesso. Questa è l'essenza della perseveranza. Non è solo andare avanti per inerzia, ma procedere con la certezza che ogni passo, anche i più difficili, ti avvicina alla tua migliore versione. Adottando questa mentalità, smetterai di vedere i problemi come barriere e inizierai a considerarli gradini verso il successo. Perseverare non è un atto passivo, ma una decisione attiva di continuare a crescere nonostante le difficoltà. Invece di temere il fallimento, accettalo come parte del processo e vedrai come ogni sfida diventerà un'opportunità di miglioramento. Non arrenderti mai. Vai avanti con coraggio. Lezione 6 Valorizza il presente Uno dei principi più trasformativi dello stoicismo è imparare a vivere nel presente. Spesso la nostra mente è intrappolata in due luoghi che non esistono. Il passato, che non possiamo più cambiare, e il futuro, che non è ancora arrivato. Questa distrazione ci ruba l'unica cosa che possediamo realmente. L'ora. Non preoccuparti di ciò che non è ancora accaduto, né di ciò che avresti potuto fare diversamente. Concentrandoti sull'ora, non solo sarai più produttivo, ma godrai anche di più della vita. Ogni momento diventa un'opportunità di crescita, di piacere e di vera connessione con te stesso e con gli altri. Valorizzare il presente significa riconoscere che la vita accade qui e ora. Adottando questa mentalità, ti renderai conto che i problemi sembrano meno opprimenti e le gioie più intense. Vivere nel presente ti dona una pace interiore che nessuno può portarti via. Ricorda, l'unica cosa che possiedi davvero è il momento che stai vivendo ora. Per gli stoici, il più grande ostacolo sulla strada verso la saggezza è l'ego, quell'impulso interno che ti fa credere di sapere tutto, che devi dimostrare costantemente il tuo valore o che non puoi sbagliare. L'ego è un nemico silenzioso che blocca la tua crescita e ti impedisce di imparare dagli altri. Gli stoici sapevano che la vera grandezza non deriva dall'arroganza, ma dall'umiltà. Riconoscere i propri limiti, accettare i propri errori e avere l'apertura per imparare costantemente è ciò che ti permetterà di andare avanti. Durante questi sette giorni, sfidati a praticare l'umiltà in tutto ciò che fai. Questo significa essere consapevoli dei tuoi difetti senza vergogna e essere disposti ad ammettere quando hai torto. Non confondere l'umiltà con la debolezza. Si tratta della forza di mettere da parte l'orgoglio e accettare che c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Impara da chi ti circonda, ascolta più di quanto parli e riconosci che ogni persona ha qualcosa di prezioso da insegnarti. L'umiltà ti permetterà anche di migliorare le tue relazioni con gli altri, poiché mostrando vulnerabilità diventi più accessibile ed empatico. La vera saggezza non risiede nel dimostrare di avere sempre ragione, ma nella capacità di assorbire nuove lezioni da ogni esperienza e da ogni persona. Praticare l'umiltà ti avvicina all'ideale stoico di un essere umano equilibrato, consapevole delle proprie forze, ma anche delle proprie limitazioni. Ricorda, essere umile è la vera saggezza. Lezione 8 Non confrontarti con gli altri Confrontarsi con gli altri è una trappola pericolosa che può distogliere la tua attenzione da ciò che conta davvero, la tua crescita personale. Gli stoici comprendevano che la vera soddisfazione non si trova nel misurare il tuo successo rispetto a quello degli altri, ma nel lavorare costantemente per migliorare la tua vita. Viviamo in una società che ci spinge costantemente a competere, a volere di più, ad avere ciò che hanno gli altri, ma questo confronto alimenta solo insoddisfazione e risentimento, facendoti dimenticare ciò che hai già raggiunto e chi sei. Durante questa settimana impegnati a non confrontarti con gli altri. Quando ti senti tentato di pensare a ciò che un'altra persona ha, ricorda che ognuno ha il proprio percorso e le proprie lotte. Non conosci gli sforzi né i sacrifici che altri hanno fatto per arrivare dove sono, e ciò che sembra successo dall'esterno potrebbe non essere ciò di cui hai bisogno nella tua vita. Invece di concentrarti su ciò che gli altri ottengono, rivolgiti a te stesso. Cosa hai imparato? Come sei cresciuto? In cosa puoi migliorare? Uno stoico non cerca la validazione esterna né l'applauso degli altri. L'unica competizione che ha è con se stesso, cercando di essere migliore oggi di ieri. Abbandonando il confronto, ti libererai della pressione sociale e troverai una pace profonda nel fatto che il tuo unico dovere è con il tuo progresso. Concentrati sul tuo cammino e vedrai come fiorirai al tuo ritmo, senza distrazioni. Lezione 9 Usa il silenzio come strumento In un mondo saturo di rumore e distrazioni, il silenzio si erge come un superpotere sottovalutato. La cultura attuale spesso valorizza l'eloquenza e la comunicazione costante, ma gli stoici capivano che il silenzio è uno strumento potente che può portare all'introspezione e a una comprensione più profonda di noi stessi e degli altri. Praticare il silenzio strategico significa scegliere momenti per tacere e osservare, permettendo che le parole degli altri risuonino e si integrino nella nostra comprensione. Questa settimana impegnati ad ascoltare di più e a parlare di meno. Così facendo, non solo guadagnerai più rispetto, ma scoprirai anche che le risposte e le idee che cercavi spesso si trovano nella quiete. Nel silenzio puoi riflettere sui tuoi pensieri, elaborare le tue emozioni e valutare le tue decisioni senza la pressione delle opinioni esterne. Inoltre, essere un ascoltatore attivo aprirà uno spazio in cui gli altri si sentiranno valorizzati e compresi, rafforzando le tue relazioni. Gli stoici sapevano che chi parla meno capisce di più. Questa lezione non solo ti permetterà di accumulare conoscenza, ma ti darà anche la chiarezza necessaria per affrontare le sfide con una mente limpida. Non sottovalutare il potere del silenzio. È in quei momenti di tranquillità che possiamo davvero ascoltare la nostra voce interiore e trovare risposte che il frastuono del mondo esterno può soffocare. Pratica il silenzio e trasforma il tuo modo di interagire con il mondo. Lezione 10 Sii grato per ciò che hai La gratitudine è una delle chiavi più potenti per raggiungere la felicità in un mondo che spesso ci spinge a desiderare di più e a concentrarci su ciò che ci manca. Gli stoici ci insegnano che la gratitudine per ciò che già possediamo può trasformare radicalmente la nostra prospettiva. Praticare la gratitudine quotidiana non significa riconoscere solo i grandi successi, ma apprezzare le piccole cose che spesso ignoriamo, una conversazione significativa, il calore del sole sul viso o il sapore del tuo cibo preferito. Durante questa settimana impegnati a dedicare alcuni minuti ogni giorno a scrivere o riflettere su almeno tre cose per cui sei grato. Facendo così comincerai ad allenare la tua mente a vedere il positivo in ogni situazione e a valorizzare ciò che hai invece di lamentarti per ciò che non possiedi. Questo esercizio non solo migliorerà il tuo stato d'animo ma ti aiuterà a sviluppare una mentalità più positiva e resiliente. Gli stoici credevano che la gratitudine fosse essenziale per coltivare una felicità autentica. Adottando questa pratica noterai che la tua percezione della vita cambierà, le sfide diventeranno più gestibili e i momenti di gioia si amplificheranno. Essere grato per ciò che hai non solo ti riempie di soddisfazione ma ti connette anche con il presente permettendoti di vivere in modo più pieno e consapevole. abbraccia la gratitudine e trasforma la tua vita dall'interno. Lezione 11 Mantieni la calma di fronte al caos Il caos è una parte inevitabile della vita. Le crisi, gli imprevisti e le sfide appariranno sempre. Tuttavia, gli stoici ci insegnano che anche se non possiamo controllare le circostanze esterne possiamo dominare la nostra risposta emotiva a esse. La calma diventa la nostra più grande forza nei momenti di turbolenza. Mantenere la serenità non significa ignorare la realtà o essere passivi di fronte ai problemi ma trovare un centro interiore che ti permetta di navigare le tempeste con chiarezza e determinazione. Questa settimana, quando ti troverai in situazioni caotiche ricorda di praticare la calma. Nel momento dell'avversità fai una pausa e respira profondamente. Permettiti di sentire la tensione ma non lasciare che ti controlli. Rifletti sulla situazione da una prospettiva stoica. Cosa posso davvero controllare qui? Che lezione posso imparare da questa sfida? Concentrandoti su ciò che conta veramente e agendo con una mente lucida eviterai decisioni impulsive che potrebbero peggiorare la situazione. Ricorda che la tua capacità di mantenere la calma in mezzo al caos non solo ti rafforza ma ispira anche chi ti circonda. In un mondo pieno di incertezze la serenità diventa un faro di speranza. Con ogni sfida affrontata con calma non solo costruisci la tua resilienza ma diventi anche un esempio di forza per gli altri. Pratica la calma e trasforma il caos in opportunità di crescita. Lezione 12 Non smettere mai di migliorarti Per uno stoico la vita non è una destinazione ma un processo costante di evoluzione e miglioramento. Questo principio essenziale ci ricorda che c'è sempre spazio per crescere, imparare e trasformarci. Spesso ci accontentiamo della routine dimenticando che ogni giorno ci offre una nuova opportunità per essere versioni migliori di noi stessi. Questa settimana stabilisci l'abitudine di riflettere alla fine di ogni giornata e chiediti come posso essere migliore domani. Questa pratica di autovalutazione non solo ti aiuterà a identificare aree di miglioramento ma anche a agire con intenzione. Forse vorrai essere più paziente con i tuoi cari o magari desideri migliorare le tue competenze professionali. La chiave sta nel fissare obiettivi realistici e specifici e lavorare su di essi quotidianamente. Ogni piccolo progresso conta e col tempo questi piccoli passi si tradurranno in grandi risultati. Ricorda che il miglioramento continuo non è solo un'opzione ma un obbligo che ti dà potere. Se abbracci questo principio alla fine della settimana ti sentirai irriconoscibile ma la cosa più importante è che avrai capito che questo viaggio di autoscoperta e superamento è appena iniziato. Ogni giorno è una nuova pagina della tua storia. Assicurati che ogni singola pagina rifletta il tuo impegno verso l'eccellenza personale non smettere mai di cercare la migliore versione di te stesso. In una settimana applicando queste due lezioni resterai sorpreso dai cambiamenti che potrai generare nella tua vita. Ma questo è solo l'inizio. Se ti è piaciuto questo video e desideri continuare su questo percorso di trasformazione non dimenticare di iscriverti mettere un mi piace e condividerlo con amici e familiari. Ci vediamo nel prossimo video per continuare a imparare insieme.